Oggi parliamo di nucleare, delle sfide che vogliono dire questo nucleare, non soltanto quindi una questione di accettazione sociale ma anche di realizzazione vera e propria. Lei ha detto una cosa molto interessante, cioè guardiamo al nucleare con un modello di sviluppo di business diverso e lo dice diciamo con una storia enea comunque alle spalle. Allora con la costruzione di DTT stiamo realizzando non solo una infrastruttura di ricerca di primissimo livello ma stiamo sperimentando un nuovo modo di operare. DTT porta assieme, a lavorare assieme tutte le istituzioni di ricerca operanti in Italia sulla fusione, in primo luogo Enea ma anche CNR, NFN, varie università e la più grande industria energetica italiana ENI. In questo modo sarà possibile coniugare l'approccio pragmatico dell'industria con il know-how generato nel mondo accademico e questo consentirà di accelerare lo sviluppo della fusione verso la produzione di energia. secondo te questo è un modello che si potrebbe attuare anche su altri aspetti del settore energetico? Credo che sia in generale un modello vincente in tutti gli aspetti e in gran parte probabilmente già realizzato. Nel caso della fusione abbiamo prevalentemente sottolineato gli aspetti scientifici negli scorsi decenni e occorre ora fare un salto nel modello di organizzazione. Che tempi vi siete dati? Vi siete dati dei tempi soprattutto? Dare dei tempi per la realizzazione della fusione è difficile però sono sicuro che solo cambiando il modello organizzativo riusciremo a realizzarla nei tempi più brevi possibile. Per quanto riguarda queste alleanze europee che stanno nascendo, si parla adesso di piccoli reattori, sulla fusione invece? Sulla fusione c'è una lunga tradizione di collaborazione all'interno dell'ambito eurato ma tra i vari laboratori di ricerca. Questo ha generato del know-how che è condiviso tra tutti i laboratori operanti nella fusione. Quindi questo è stato molto importante per consentire i progressi che in particolare in Europa la fusione ha fatto.